Bisogna andare a colpirli in ciò in cui loro tengono di più, ovvero l'erogazione dei fondi europei, perché è chiaro e palese che per il Premier Polacco far parte dell'Unione Europea è semplicemente un'occasione per poter ricevere dei fondi e quindi per poter sfruttare delle opportunità dal punto di vista economico, tralasciando invece tutto ciò che riguarda la tutela dei diritti fondamentali.